La voce dell'Agenzia, rubrica di informazione fiscale a cura dell'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna. Amici ascoltatori della web radio dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, un cordiale saluto da parte di Sandro Musca e benvenuti alla terza puntata delle nostre trasmissioni dedicate ad argomenti di natura fiscale di stretta attualità. Nelle precedenti puntate abbiamo affrontato il tema della dichiarazione precompilata, l'introduzione, quali sono i contribuenti che possono accedervi, le modalità, le date da ricordare e anche l'accesso attraverso internet. Quest'oggi invece andiamo ad affrontare quelle che sono le novità del 7.30 del 2016 e lo facciamo con il funzionario della direzione provinciale di Rimini, Fabio Mavilio, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, un'importante novità della dichiarazione 2016 riguarda la dichiarazione congiunta, ce ne può parlare? Da quest'anno i coniugi potranno presentare la dichiarazione in forma congiunta attraverso l'area riservata del sito internet www.agenzieentrate.gov.it. Faccio un esempio, il marito dopo aver compilato la propria dichiarazione dei redditi inserirà il codice fiscale del coniuge della moglie nella propria area riservata. La moglie per prestare consenso alla presentazione in forma congiunta del modello dichiarativo inserirà nella propria area riservata il codice fiscale del marito. Ovviamente entrambi i coniugi devono possedere le credenziali a fisco online, non devono essere legalmente separati e non devono possedere redditi di lavoro autonomo o di impresa. Accennavamo anche nelle puntate precedenti che da quest'anno sono coinvolte le partite IVA. Ecco, di cosa si tratta? Da quest'anno i contribuenti titolari partita IVA, accedendo all'area riservata del sito www.agenzieentrate.gov.it, troveranno un unico precompilato. I contribuenti non titolari partita IVA, sempre accedendo all'area riservata del sito www.agenzieentrate.gov.it, troveranno un unico precompilato che potranno anche modificare ed inviare direttamente online. Un'altra novità riguarda la procedura e può essere importante per chi si accorge di aver commesso degli errori. Un contribuente che ha trasmesso attraverso l'area riservata del sito www.agenzieentrate.gov.it il proprio modello dichiarativo, il 730, se si accorge di aver commesso un errore, può sempre all'interno dell'area riservata procedere con l'annullamento e fare un nuovo invio. se ci sono ancora errori, in questo caso non potrà utilizzare la funzione di annullamento presente nell'area riservata, ma dovrà presentare un 730 integrativo oppure un modello unico, correttivo e integrativo. Bene, passiamo ora in rassegna a quelle che sono le altre novità fondamentali del 730 del 2016. Sono diverse le novità, mi limito a segnalare quelle più importanti, ad esempio le spese funebri sono detraibili nella misura del 19% a prescindere dal vincolo di parentela, inoltre è stato previsto un innalzamento del bonus IRPEF per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 26.000 Euro, infatti il bonus passa da 640 Euro a 960 Euro annui. Ultima novità riguarda le spese legate alla frequenza di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. In pratica per queste spese è possibile godere di una detrazione pari al 19% fino a un massimo di spesa di 400 Euro per ciascun studente. E chiudiamo con un argomento sempre molto gettonato su cui torneremo anche nelle prossime puntate, mi riferisco alle spese per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico, ci saranno nella precompilata? Certo, chi ha richiesto l'aggevolazione nel 2014 troverà i dati nella dichiarazione precompilata, chi invece ha iniziato le spese di ristrutturazione o di riqualificazione energetica nel 2015 troverà i dati nel foglio informativo allegato al 730 precompilato. Ricordo che il foglio informativo è un documento che accompagna il 730 precompilato ed è disponibile nell'area riservata del contribuente. Per quanto riguarda la montare di queste detrazioni, ricordo che anche per il 2015 sono confermate nella misura del 50% per quanto riguarda il bonus edilizio e nella misura del 65% per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica. Ricordiamo anche che per l'accesso alla dichiarazione precompilata online è indispensabile il codice PIN, vogliamo ricordare come si fa ad averlo per i servizi telematici? Si può chiedere il codice PIN attraverso il sito internet dell'agenzia entrate www.agenzientrate.it accedendo a qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate o per telefono al numero 848 800 444 oppure attraverso l'app dell'agenzia entrate scaricabile sul proprio smartphone. Siamo giunti alla fine di questa terza puntata delle nostre trasmissioni dedicate a materia fiscale e a tutte le problematiche inerenti alla materia fiscale, quest'oggi abbiamo affrontato il punto sulle novità della dichiarazione 2016, ringraziamo Fabio Maviglio della direzione provinciale di Rimini per essere intervenuto. Grazie a tutti e vi diamo appuntamento naturalmente alle prossime puntate delle nostre trasmissioni. Un cordiale saluto da parte di Sandro Mosca.